Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto. Continuiamo a parlare di politica in vista delle prossime elezioni regionali in Abruzzo del 10 marzo. In Abruzzo tanti leader nazionali. Oggi tour nella nostra regione del segretario nazionale di sinistra italiana Nicola Fratoiani che è in Abruzzo per sostenere la lista Alleanza Verdi-Sinistra, a sostegno anche del candidato presidente Luciano D'Amico. Buonasera Fratoiani, benvenuto negli studi. Buonasera a voi, grazie. Direte Otto, il suo tour oggi è partito non a caso dalla riserva del Borsacchio. È voluto andare a visionare di persona una situazione che voi avete definito come emblematica anche dalla partita che è in corso in fondo per queste regionali. Per quale motivo Fratoiani? Perché la vicenda del Borsacchio è una vicenda emblematica di queste regionali, dell'Italia di oggi, del mondo che abbiamo di fronte. Siamo ormai travolti da una crisi climatica evidente. Quella di oggi è stata una giornata caldissima. Sembra di essere in primavera avanzata in Abruzzo come in tutta Italia. La neve si scioglie sui monti, la siccità incalza, creando peraltro nuovi disagi terribili alla filiera agricola proprio in questi giorni in cui l'Italia è stata attraversata dalla protesta dei piccoli agricoltori italiani. La destra dei climafreghisti fa finta che tutto questo non accada e questo per la verità non ci sorprende. Il problema è che di fronte a quello che accade occorrerebbe aumentare l'area in cui eserciare elementi di protezione invece che tagliarla. Sul Borsacchio la destra abruzzese ha messo in campo un vero e proprio scandalo, un emendamento notte e tempo per tagliare l'area protetta, per continuare a consumare suolo nel paese, l'Italia, è bene che gli abruzzesi lo sappiano, dove il consumo di suolo è il più alto al mondo, più rapidamente che altrove si consuma altro suolo. Sono danni, danni che pagheranno tutti e tutte in termini economici, orientali, economici. L'economia può crescere, costruire nuovi posti di lavoro, dare occasioni per gli abruzzesi e per le abruzzesi se comincia ad investire sui suoi beni comuni, sulle sue bellezze, sulla sua natura. Se fa il contrario ci avviamo immesorabilmente a una stagione di regressione, di declino. Ecco, su questo si gioca anche l'opzione della scelta per gli abruzzesi tra due modelli che poi sono rappresentati da due coalizioni che sono le uniche in campo e che però raggruppano un po' tutto lo schieramento politico nazionale. Ecco, in Abruzzo si è compiuto quasi un piccolo miracolo di compattezza, anche nel centro-sinistra. Anche più che piccolo, vorrei dire, in Abruzzo si è fatta una gran bella operazione e noi rivendichiamo, Alleanza Verde e Sinistra, di aver lavorato testardamente per raggiungere questo obiettivo. È il lavoro che stiamo facendo anche nel Paese, di fronte ad una destra-destra regressiva su ogni fronte, sul piano dei diritti di libertà, dei diritti sociali, del lavoro, della qualità del lavoro, del diritto alla salute, del diritto all'istruzione. Su tutte queste questioni dell'ambiente abbiamo appena parlato, questa destra porta indietro il nostro Paese e anche, naturalmente, in modo ancora più significativo, le regioni e le città che sta governando. Costruire un'alternativa è una responsabilità che tutti e tutte dobbiamo sentirci addosso e costruire un'ampia coalizione, larga, come Luciano D'Amico è riuscito a fare, a partire dalle sue qualità, dalla sua capacità di mettere in campo una visione per questa terra, una visione per il futuro di questa terra, è una grande occasione. Noi siamo in campo per questo, per dire che in Abruzzo è arrivata l'ora di cambiare, di cambiare per garantire a tutti e a tutte di potersi curare e di non dover emigrare per esercitare un diritto universale e fondamentale come quello alla salute, di poter studiare, per esempio per chi ha diritto ad una borsa di studio come i 1300 studenti dell'Aquila e che non se la vedono pagata da una regione inadempiente, disattenta su temi fondamentali come questo. Pensiamo che questo paese e questa regione abbiano diritto a un lavoro sicuro, stabile, non cario, ben pagato nella pubblica amministrazione e anche nel sistema degli appalti. Pensiamo a un mondo in cui ci siano semplicemente elementi di giustizia che qualsiasi cittadino e cittadina, che sia lavoratore, lavoratrice, precario, pensionato, piccolo imprenditore, partita IVA, piccolo commerciante, capisce al volo. C'è qualcosa che non va, in un mondo alla rovescia, il costo della vita cresce e i salari, gli stipendi, le pensioni sono ferme o vanno indietro. Ti senti male e non c'è più una sanità che ti protegge, ti cura, ti mette in sicurezza. Vuoi studiare per costruire un futuro migliore per te o vuoi che i tuoi figli possano farlo e non c'è più strumenti che garantiscano a tutti e a tutte pari opportunità in barba alla Costituzione, ma anche, ripeto, al senso comune di giustizia. Noi abbiamo un'altra idea. L'Abruzzo è anche la regione in cui è stata eletta come parlamentare Giorgia Meloni. Pensa che un nuovo vento possa iniziare a aspirare in questa primavera proprio da questa regione? Penso di sì, me lo auguro, ne sono convinto. Nelle ultime elezioni regionali è bene ricordarlo a noi stessi, a tutti coloro che ogni volta che ci sono le elezioni fanno questa sorta di diritto collettivo, di contrizione per il numero di persone che non vanno più al voto. Nelle ultime elezioni il 50% degli abruzzesi non è andato al voto. È successo quasi lo stesso a livello nazionale. Di quelli che sono andati al voto una maggioranza ha dato fiducia ad una destra a destra, in Abruzzo come nel Paese. La mia impressione è che sempre di più nel Paese, come nei territori che sono stati governati da questa destra a destra, le persone sia che hanno votato per la destra, sia quelle che non hanno votato pensando che la politica non servisse più a nulla, che non serva a nulla, che non si occupi dei loro problemi, la mia impressione è che si stanno accorgendo che molte cose non sono andate bene e che forse è arrivato il momento di cambiare. Si può fare e dobbiamo lavorare per questo. Come diceva lei, la scelta di Luciano D'Amico è arrivata anche prima di Natale, c'è stato tutto il tempo per lanciare questa candidatura, anche per discutere tra le forze politiche di una coalizione così variegata. Tant'è vero che proprio domani nella convention verrà presentato il programma che è nato dopo la scelta del candidato. Ecco, ma come potranno coesistere le vostre tesi ad esempio con quelle di Calenda? Ma io credo che di fronte alla destra che abbiamo davanti offrire un'alternativa sia molto più semplice di quello che si pensa e bisogna mettersi d'accordo su un punto, il governo delle destre sta facendo danni profondi, danni che rischiano di essere pagati non solo oggi ma anche domani dalle generazioni a venire e un'alternativa è necessaria. Quando c'è una coalizione che sia molto larga come in Abruzzo o anche più ristretta è sempre necessario che le forze politiche che ne fanno parte siano capaci non di fare compromessi, intendendo con questa parola una riduzione delle proprie ambizioni, una riduzione delle speranze che si mettono in campo, ma dei compromessi come ricerca di una convergenza più avanzata, comune, si trovano insieme le soluzioni quando si è d'accordo su alcuni punti fondamentali su cui mi pare che nessuna delle forze in campo avanzi dubbi, cioè che dobbiamo garantire più giustizia sociale, più eguaglianza, meno disparità, che dobbiamo appunto ricostruire un sistema di valori ma anche di servizi e di diritti che si prenda cura delle fragilità, che dobbiamo prenderci cura del nostro territorio. Su tutto questo D'Amico innanzitutto grazie al suo lavoro e le forze delle coalizioni hanno costruito una proposta programmatica che è un'indicazione di futuro. Da quella si parte e quando ci saranno e ci saranno come sempre differenze e articolazioni, si tratterà di mettersi insieme, discutere come si è fatto per la scelta della coalizione e trovare la soluzione più utile per chi, non per noi, per le forze politiche che discutono, ma per gli abruzzesi e per gli abruzzesi. Si è fatto con la coalizione, si farà anche dal governo della regione. La più grande azienda di questa regione fra tuoi anni è del settore automotive, uno stabilimento Stellantis che si occupa di veicoli industriali e commerciali, soprattutto leggeri. Un settore che è rimasto a riparo per ora dalla grande crisi, anche quella degli ultimi anni determinata dalla guerra e dalla pandemia, ma che ora deve confrontarsi con la sfida dei motori elettrici. Come governare questa transizione e soprattutto quali preoccupazioni ci sono per il lavoro in questa regione, in questo scenario? Ci sono solo due possibilità di fronte a quello che abbiamo davanti, guardare al futuro e orientare al futuro le scelte di politica industriale, di politica economica, le scelte che riguardano il lavoro, la sua tutela, oppure guardare al passato, favorire le grandi lobby di interi attuali contro il futuro di questo paese e anche il futuro dell'industria di questo paese, dei lavoratori e delle lavoratrici. La destra italiana è la destra dei patrioti de no altri, si dice a Roma, cioè di un patriottismo da operetta, fatto di slogan, di propaganda, ma è una destra che nella sua lotta contro la transizione ecologica, contro il motore elettrico, sta condannando letteralmente la nostra filiera industriale, in particolare il settore dell'automotive, ma non solo, c'è un indotto molto importante che lo accompagna, all'obsolescenza produttiva, che significa che mentre altri grandi paesi stanno attrezzando per la conversione ecologica, per l'elettrico, che sarà inevitabilmente il futuro della mobilità umana, almeno nei prossimi decenni, il nostro sta fermo, è indietro, anzi cammina col passo del gambero, va ancora più indietro. Che succederà? Che quando quel futuro sarà non più un futuro ma un presente, la nostra industria non sarà in grado di tenere il passo, i nostri lavoratori e le nostre lavoratrici ne pagheranno il prezzo. Se invece investiamo ora con politiche industriali, invece che con un nazionalismo da operetta, noi saremo in grado di proteggere oggi ma soprattutto domani l'industria, i posti di lavoro, rilanciarli ed evitare, questo è il punto più importante, che la transizione ecologica che ha un costo, come ogni cambiamento, venga pagata come spesso accade dai più deboli. Bisogna che i costi di quello che va pagato vengano distribuiti su chi è in grado di pagarli. Fratoiani, sul tema dell'agricoltura, su cui voi sfidate anche l'impopolarità tra gli addetti ai lavori rispetto alla posizione sulle normative europee, come far capire loro che si sta giocando una partita decisiva, al di là di quelle che sono le rivendicazioni di questo momento? Ma intanto raccontando la verità, primo la PAC, la PAC, la politica economica agricola europea, l'ha votata la destra che governa, non i verdi e gli ecologisti e noi la critichiamo perché quella PAC che è fatta di tanti tanti soldi, un terzo del bilancio europeo, 380 miliardi di euro, dà l'80% di quei fondi al 20% delle aziende agricole europee. Quali sono queste aziende? Quelle più grandi, enormi. Il restante 20% delle risorse è distribuito all'80% delle aziende, quelle dei piccoli agricoltori che sono quelli che stanno protestando. Secondo, l'altra verità è che a togliere lo sgravo dell'IRP è stata la destra che governano gli ecologisti o la sinistra, ora ci hanno ripensato ma forse potevano evitare di toglierla nell'ultima manovra economica. Terzo, quello che vogliamo dire a questo mondo e che continuiamo a dire, ma questo mondo lo sa bene, che il problema dell'agricoltura italiana si chiama reddito. Oggi i piccoli agricoltori di questo paese producono ad un costo che è più alto di quello che ricevono quando vendono il prodotto, solo che quel prodotto poi ai consumatori arriva con un costo molto più alto di quello a cui l'hanno venduto. Dove si forma questa ricchezza? Nella filiera, quella della grande distribuzione organizzata, la GDO, delle grandi multinazionali magari straniere come la Nestlé, che però detengono molti dei marchi del famoso Made in Italy da Operetta dei Patrioti di Noantri, oppure a Monte, nelle grandi multinazionali che hanno tutto il mercato delle sementi e dei pesticidi. Allora bisogna intervenire su questo blocco di questioni, dalla PAC alla struttura della filiera agricola, che continua a stitolare quelli che poi ci danno da mangiare. Hanno ragione gli agricoltori che dicono voi mangiate sano perché noi produciamo il cibo sano, ma perché quella produzione possa essere sostenibile bisogna intervenire a questo livello. Ieri in Senato è stato approvato l'accordo con l'Albania per la gestione dei migranti, sarà risolutivo a suo avviso? No, è una grande truffa. Vedremo intanto se mai ci sarà. La mia impressione, la nostra impressione è che abbiamo corso tanto per far arrivare almeno una nave entro l'8 e il 9 di giugno, il giorno delle elezioni europee, ma questo accordo, e anche qui è bene dire per come stanno le cose, è un altro enorme sperpero di risorse pubbliche inutile. Noi abbiamo un grande bisogno di risorse che investano sul settore dell'accoglienza, ma anche sul personale delle prefetture, delle questure per stabilizzare giovani italiani che lavorano lì e che non riescono a smaltire per esempio le pratiche legate alle richieste d'asilo, al sistema dell'accoglienza, tutte risorse che non vengono investite in Italia, incredibilmente vengono investite in un progetto iperdispendioso, perché pagare qualcuno che sta in Albania dall'Italia significa pagarlo il doppio, perché sono risorse che potevano essere più facilmente, più efficacemente investite nel sistema dell'accoglienza italiana, con un approccio che anche qui ha il sapore molto sgradevole, sia perché si parla di esseri umani, sia perché si parla di risorse pubbliche, della pura propaganda. Continuiamo ad affrontare il fenomeno dell'immigrazione come un'emergenza, ora hanno capito tutti, chiunque, con qualunque punto di vista sulle migrazioni, che se c'è una cosa che ormai è certa è che l'immigrazione non è un'emergenza, cioè un fatto che accade in un momento specifico e poi non c'è più, è un fatto strutturale e noi dovremmo affrontarlo così, non perché siamo più buoni di quegli altri, ma perché forse affrontarlo in modo strutturale è più razionale e funziona meglio. Siamo in chiusura, l'ultima domanda, cosa augura l'Abruzzo nei prossimi cinque anni? Auguro di riprendersi in mano il futuro e di riprenderlo in mano nel segno di un Abruzzo più giusto sul piano economico e sociale del lavoro, di un Abruzzo più giusto sul piano della tutela dei diritti, della salute di tutte e tutti, sul piano del diritto allo studio, sul piano della tutela di un territorio bellissimo, pieno di opportunità e che non merita di essere governato come è accaduto negli ultimi cinque anni. Grazie Nicola Fratoianni, grazie ai nostri telespettatori, appuntamento alle prossime occasioni con la rubrica Il Fatto. Buona serata.